Come eliminare le tarme nel cibo Togli tutto quello che hai in dispensa e contrarla con attenzione le confezioni di cibo al suo interno. Se nel cibo ci sono filamenti bianchi, simili a ragnatele, l'alimento è contaminato e va buttato. Se invece è ancora sano, mettilo da parte. A questo punto pulisci la dispensa con una soluzione di acqua e aceto. Pulisci anche i contenitori con l'aceto o, se preferisci, mettili in lavastoviglie. Per evitare che il problema si ripresenti, conserva la pasta in barattoli di vetro o plastica trasparenti ermeticamente chiusi. Metti qualche foglia di alloro o della scorza di arancia in dispensa. Possono contribuire ad allontanare le tarme. Grazie a tutti. 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 Grazie.